Saluto tutti voi, fedeli di Roma e pedagli di vari paesi, in particolare le famiglie del Movimento dei Popolari. Saluto con gratitudine i rappresentanti della Pastorale della Salute della Diocesi di Roma, pensando a tanti sacerdoti religiosi, religiosi, laici, che sono stati accanto e stanno accanto ai malati in questo periodo di pandemia. Grazie, grazie di quello che avete fatto e che state facendo. Grazie.